Grazie a tutti. Lo sa chiamare pure... Fa come il falco di Federico. Vogliamo essere io il fortunato. Un minuto, va! Uno! Un minuto! 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai. Vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai. Vai. Lascia. Lascia. Vai. 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 , vai. 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 . Vai. E. Questa è già spostata a bioletti. Aha. Questa è ciò.